Il centenario della morte di Giovanni Verga, il capoluogo lombardo, riflette sugli anni milanesi del padre del verismo, Antonello Marzio. Giovanni Verga arriva dalla Sicilia a Milano il 20 novembre del 1872, qui rimarrà per 20 anni. Anche lui, come tanti, si sposta dal sud Italia, poverissimo, al nord, in cerca di lavoro. Frequenta il salotto letterario di Clara Maffei, patriota e mecenate, e conosce personaggi della scapigliatura. Verga scrive novelle, descrive la Milano laboriosa e industriale, ricca di opportunità, ma si accorge che esistono i poveri anche al nord. Gente che vive ai margini della città, lo scrittore e drammaturgo siciliano, rimane stupito delle reazioni di chi perde il lavoro e non riesce più a ricollocarsi. Si era rabbattato in vari lavori, ma poi alla fine era stato mandato, praticamente aveva avuto una risposta negativa dell'ultima richiesta di lavoro. Il popolo, la gente semplice, diventa la linfa dei suoi iscritti. Giovanni Verga si limita però solo al racconto delle condizioni di povertà. La sua è una descrizione oggettiva della realtà. Non si spinge a denunciare la società perché era un pessimista, quindi non era convinto che non potesse esserci nessun tipo di cambiamento. È quasi l'alba, i primi raggi di radia nella stanza, giungono a me gioiosamente, come una mattina d'estate. Sono quegli attimi in cui i miei tremori sono periccanti, rapponiti da Dio.